Non importa essere il più cool, ma conta la visione. A dirlo è la rockstar italiana dello styling, colui che ha contribuito a ridefinire l'immaginario della moda contemporanea e che ha vestito dalla A di Angelina Mango alla B del volo, passando dai Mane Skin, Achille Lauro, Giovanotti, La Pausini, Simona Ventura, Orietta Bertha, tutti ragazzi. Io sono felicissima di avere a tribù Nick Cerioni. Vabbè, innanzitutto grazie mille Nick. Figurati, ma grazie a voi. E scusa per il pressing. Ci sei? Alle nove e mezza? Alle dieci? Alle undici? Alle tre? Ragazzi, io sono già qui, ecco. Sono felicissima, grazie, grazie, grazie. Anch'io, grazie a voi. Allora, noi 30 secondi fa stavamo parlando del tuo primo concerto. Certo. E quindi io non posso non iniziare da quel primo concerto che hai appena citato. Il mio primo concerto è stato il concetto di Ambra, bisogna dirlo, al Palarossini ad Ancona, se non sbaglio 95, ed era, t'appartengo. Opening act? Alessia Terminator. Ragazzi. No, vabbè, volo. Con questo abbiamo finito, abbiamo finito. Poi, la mia memoria, spero non mi inganni, ma io ricordo appunto Alessia che apriva e poi usciva a Ambra e faceva il concerto. Ad Ancona? Ad Ancona, sì. Paese, esatto, dove sei nato. Sì, sì, io sono nato in provincia. Nato e vissuto in provincia e per me era proprio top. 95, quindi parliamo di quasi 30 anni fa, 29 anni fa. Vabbè, ma i conti noi non li facciamo perché tanto sono un dettaglio. E il fatto che in quel momento Ambra rappresentava un sacco per noi, comunque una figura televisiva così dirompente e presente nelle nostre vite, arrivasse ad Ancona, nel Mar, che voleva dire tantissimo. Ah, beh, certo, all'epoca, sai, i concerti, soprattutto nei posti di provincia, erano una finestra sul mondo, quindi si correvano a vedere. Poi non ce n'erano tantissimi come nelle grandi città, quindi era super. Però no, ma ho un ricordo pazzesco di quel concerto. Che ragazzino sei stato tu? Io sono stato un ragazzino abbastanza felice, inquieto. Ho sempre avuto questa inquietudine, ma ce l'ho ancora. Quella cosa lì ci nasci, poi impari a gestirla, a canalizzarla, a usarla. Però ho un ragazzino meno male felice, adesso guardandomi indietro. Guardavo tanta TV, come penso tutti. La TV era la nostra, come dicevo, prima finestra sul mondo. Dalla TV ho imparato tanto. Tutto il mio lavoro di oggi si basa su quello che fondamentalmente guardavo in TV. Poi vivevo una dimensione bella, che era quella della provincia. Bella l'ho scoperto dopo, perché poi ovviamente, sai, la provincia ti sta stretta, la provincia sembra sempre limitante. Poi gli anni 80 e 90 si guardava sempre alle cose grandi, al mondo. Sognavi la frenesia della città, quando in realtà adesso invece forse la provincia ti permette anche di essere in un luogo più, non voglio dire tranquillo, ma in un luogo più a misura d'uomo. Ecco, anche a livello economico, perché poi le nostre città sono diventate carissime e tutto. E quindi quando vedo i miei amici in provincia che vivono con un quarto di quello che viviamo noi, dico cazzo. Però no, guardandomi indietro sono stata una persona felice, un bambino felice, sì. Beh, questo è bellissimo. Sì, sì, sì. L'ho scoperto dopo forse, l'ho scoperto andando via, perché poi si scoprono sempre queste cose qua quando ti guardi indietro. Però è stato bello, sono stato molto fortunato. E quando è che sei andato via? Io sono andato via a 18 anni. Ok. Nel 2001, dopo che ho fatto la maturità, ho avuto la grande occasione, grazie ai miei genitori, di andare a vivere a New York per un periodo, per un anno. E in una New York però, un filo particolare, perché erano crollate le torri da praticamente dieci giorni, quando io dovevo arrivare. In realtà poi sono arrivato un mese dopo perché avevano bloccato il visto. e ho vissuto una New York strana, una New York impaurita, una New York dove c'era ancora un po' quella paura lì, no? La paura di un mondo nuovo, che poi è stato un mondo nuovo dopo l'11 settembre. Però per me che venivo da un paesino di 2000 abitanti, piombare a New York a 18 anni, è stato strano e normale allo stesso tempo. Cioè sai quell'incoscienza che hai a quell'età, perché per te è tutto da scoprire. Poi se mi immagino adesso io catapultato in una metropoli, oppure i miei figli catapultati in una metropoli, non saprei un altro mondo. La reazione, eh certo. Però è stato bello, è stato interessante. Eh, ma ci credo bene, anche perché il 2001 è un po' considerato l'ufficiale fine degli anni 90, con il crollo delle torri gemelle, cioè è cambiato veramente tutto. Cioè quel decennio che noi abbiamo vissuto anche da ragazzini, insomma ci ricordiamo bene le emozioni, le culture, tutto quello che... Gli anni 90 forever, proprio. Non se ne esce vivi, è inutile, è inutile, non possiamo farne a meno. Però il 2001 appunto iniziava tutta un'altra storia, tutto un altro mondo. E viverlo direttamente nel luogo in cui c'è stata la fine degli anni 90... È stato strano perché, guarda, io sono arrivato praticamente a ottobre, metà ottobre se non sbaglio, metà fine ottobre, un mese dopo. E avevo una... Mi avevano trovato un alloggio in un appartamento di una signora che affittava la camera degli studenti di questa scuola di lingua che era proprio davanti al South Street Seaport, quindi dietro Ground Zero fondamentalmente. E ricordo quando andavo a prendere la metropolitana Fulton Street le macerie di Ground Zero perché ancora non potevano toglierle tutte perché c'era ancora del fuoco, delle cose. Ricordo benissimo l'odore. Mamma mia. E quella cosa lì, guarda, la ricorderò per sempre, è soprattutto quanto erano alte le macerie. Io, ti ripeto, vengo da un paesino piccolo e non ho mai vissuto in un palazzo alto o in un grattacielo, ovviamente. E ricordo che queste macerie erano ben più alte dei palazzi che io ricordavo. È stata un'esperienza bella tosta. Però allo stesso tempo era una New York anche più... Non voglio dire a misura d'uomo, però i prezzi delle case erano crollati, gli affitti erano crollati. Io spendevo molto meno di quello che spendo a Milano adesso per vivere. Ed è incredibile a New York. A un certo punto poi sono andato a vivere con una ragazza italiana con cui condividivamo un appartamento che lei aveva trovato. Tra l'altro piena Midtown. Ed erano giornate belle, strane, a volte allarmanti perché poi ho vissuto tutto il periodo dell'antracela. Non so se vi ricordate che c'era l'allarme antracce che lasciavano queste polverine nella metropolitana e via dicendo. E quello l'abbiamo vissuto proprio in pieno. La nascita e la morte dell'antracce. Però è stato comunque interessante. Poi io purtroppo da diciottenne non potevo fare la vita da club. Perché finché non hai ventun'anni non puoi andare nei locali. E sono molto rigidi loro su questa cosa. Ovviamente perché hanno delle regole proprio ferree. Quindi ho vissuto un po' ancora una vita un po' fuori dai giri fighi, dei club e delle cose. Però è stato comunque bello. Poi negli anni, tornando spesso a New York, perché all'epoca si viaggiava ancora con poco, ho conosciuto poi un ragazzo con cui ho avuto una relazione là a New York e quindi ho fatto un po' avanti e indietro negli anni successivi. E quindi là mi sono già divertito di più perché continuavamo a uscire, cominciavamo a frequentare dei posti più fighi. Però New York è un posto pazzesco, veramente figo. Cerchi di tornare spesso quando puoi? Sì, ogni tanto vado. Poi dal Covid purtroppo sono andato una volta sola, ma torno tra qualche settimana. Ah, fresco, fresco. Fresco, fresco, vado adesso. Vado per lavoro, purtroppo poco, vado tre, quattro giorni. Però è un po' casa New York, lo amo molto. Ma io mi ricordo che quando è successo delle torri gemelle ero in Corso Magenta, un amico ha chiamato e ha detto andate nel primo bar che trovate, accendete la televisione. Abbiamo visto il secondo aereo schiantarsi e la prima cosa che abbiamo fatto, ero con la mia migliore amica, siamo uscite, abbiamo guardato in alto e siamo andati a prelevare. Io mi ricordo questa cosa del andiamo a prendere dei soldi che se succede qualcosa almeno abbiamo... Sì, perché non si sapeva. E infatti la curiosità poi mi hai già parzialmente risposto, però non avevi paura anche? Sai, era un po' l'incoscienza di quegli anni di avere 18 anni e vivere in un posto incredibile che hai visto solo nei film, nei fumetti, nelle serie tv. Quindi sì, un po' sì, ma fino a un certo punto. Perché poi quando vedi che il mondo va avanti, che la gente comunque per strada c'è, che la gente lavora, che la gente va a scuola, che la gente ride, si bacia per strada, esce, vai avanti. È certo. Comunque è una città che ha reagito in un modo meraviglioso, se ci pensi, perché è una città che poi, come forse solo gli americani, no? Sanno fare di tenere poi questa bandiera alta, di dire no, ma noi ce la dobbiamo fare, siamo i più bravi, siamo i più fighi del mondo, che poi ha i pro e i contro, no? No, però su questo poi, sai, gli americani ci credono, poi fanno gruppo e si uniscono. Ed è stato bello vivere comunque una città che era simbolo, a un certo punto, di una nazione intera, ma anche un po' di un occidente, che diceva non avremo paura. Ecco, che poi la paura ci sarà sempre. E purtroppo noi con il terrorismo siamo abituati oggi a convivere, ahimè. Dall'altra parte è stato veramente figo. Poi sei tornato in Italia? Sì, a Milano. E ti sei trasferito a Milano? Sono trasferito a Milano nel 2002. Ok. Ho cominciato ad andare a scuola a settembre del 2002, qua. Che scuola hai fatto? L'Istituto Europeo di Design. E poi, vabbè, ho cominciato a vivere a Milano che mi ha dato tantissimo. Bella, dura, però figa, perché poi io ero proprio un club kid di quelli belli violenti, quindi si usciva dal mercoledì al lunedì dopo. Però la scena del club a Milano mi ha dato tantissimo. Mi ha dato tantissimo a livello di umano, di amicizie. Oggi il 90% delle amicizie solide che ho su Milano sono tutti amici che vengono dal mondo del club. E poi il club mi ha insegnato tanto anche per il mio lavoro. Quindi cosa voleva dire vestirsi per andare al club? Cosa voleva dire creare un'illusione quando ti conciavi per comunicare un messaggio? C'era sempre un messaggio in quello che facevi nel club. E soprattutto anche stare in una famiglia dove c'erano la famosa Chosen Family, dove c'erano le mie amiche drag, i miei amici performer. C'era tutto un mondo queer quando ancora la parola queer non aveva il significato di oggi. E a me piace vedere che oggi ci sia questo mondo di giovanissimi della Gen Z che invece si riconosce in tutta una serie di sfumature, che per noi erano scontate e a cui non davamo un nome. Però quella famiglia lì l'avevamo anche noi. E mi piace oggi vedere appunto questa libertà nei ragazzi di oggi. È molto figo. È bellissimo. Però tu mi stai raccontando una cosa che tu dici era scontato per noi. Sì, noi internamente, certo. Sì, no, fuori era un'altra cosa. Lo vivevate, lo vivate bene, lo potevate vivere a Milano. Anch'io sono cresciuta con il plastica. È stata casa mia anche, no? Quindi tutti quegli aspetti lì erano normali per noi. Però è bellissimo come in realtà si stia facendo un buon lavoro. C'è sempre tanto da fare, ovviamente. Però tu hai mai vissuto invece degli aspetti negativi di tutto questo che hai appena raccontato? Ma guarda, in realtà io sono stato sempre molto fortunato su tutto questo aspetto. Ovvio che le discriminazioni sono sempre state normali. Noi quando appunto ci vestivamo per andare in discoteca sapevamo che poi per strada ti potevano urlare la qualsiasi che ci sarebbe stato quello che ti voleva menare. Non so come dire. Però per noi era anche un po' un gesto politico. A me questo affascina dell'arte drag, no? L'arte drag oggi è mainstream grazie a Drag Race e grazie a tutta una serie di cose che l'hanno fatta diventare di tutti. E questa è una cosa bellissima. Dall'altra parte forse le drag più giovani non si ricordano o forse non sanno o fortunatamente non l'hanno vissuto sulla loro pelle che fare la drag appunto è stato uno statement per tanti anni. Era proprio un modo di fare lotta e di fare attivismo politico. Era pericoloso farlo. E ci sono ancora tante drag della vecchia scuola che ricordano i giovani questo. E per me è fondamentale. Io ho anche un po' vissuto la scena romana perché ho tanti amici lì e ricordo la mitica Carl Dupignè ma anche Tsunami che è una mia carissima amica che ancora oggi lavora al Mucca e alle spalle più di vent'anni di attività ed è la voce ufficiale del Pride di Roma che ricorda sempre che noi non dobbiamo mai dimenticare che i nostri corpi sono uno statement politico che tutto quello che noi facciamo sono uno statement nei confronti della libertà di essere nella libertà di vivere come vogliamo. Poi oggi ci sono anche altre battaglie sono battaglie più estese ma non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che è stato conquistato fino ad oggi non è scontato e che purtroppo possiamo tornare indietro e speriamo di non farlo però visto anche un po' il vento politico che tira non solo in Italia ma in tutto il mondo è bene tenere botta su questi argomenti. I corpi i corpi che hai vestito che hai capito hai capito che attraverso un abito si può lanciare un messaggio sì e questo è forse un po' quello che ti caratterizza cioè poi vabbè andiamo per ordine però partiamo da questa cosa Nick Cerioni con il suo lavoro non veste soltanto delle persone lancia anche dei messaggi insieme alle persone che veste ovviamente perché è un lavoro mi immagino studiato insieme ovvio prima di arrivare a questo tutta la parte ovviamente di formazione fai l'istituto europeo del design la moda entra a far parte della tua vita quindi mi immagino come noi arriviamo dagli anni 90 quindi quella moda lì che ci ha fatto sognare o disperare per quanto riguarda magari le figure femminili dimmi semplicemente per te che cosa vuol dire moda che cosa guarda io degli anni della nostra formazione quindi gli anni 90 della moda amavo la da una parte la la provocazione no che era intrinseca dentro dentro il proprio essere a me la moda che ha fatto innamorare era quella di Gautier era quella di Galliano poi nei 2000 però era tutta la moda che unita al talento dei performer che la indossavano creavano degli universi incredibili per me Madonna è stata la la più grande musa di ispirazione di quegli anni poi vabbè ho un amore smodato per la Carrà da sempre perché sono cresciuto proprio con con questa figura già proprio da bambino perché per me è proprio quasi una figura salvifica però il lavoro che ha fatto Madonna soprattutto negli anni 90 e poi nei 2000 comunque ancora oggi trovo interessantissimo quello che fa Madonna però Madonna ha proprio scritto le regole di come si fa il pop e il suo utilizzo della moda non era mai fine a se stesso Madonna non si è mai vestita per essere bella Madonna si è sempre vestita per amplificare il messaggio che voleva portare quindi io sono cresciuto con quel modus cogitandi nei confronti della moda quel modo di affrontare una performance come appunto un veicolo e quando è possibile mi piace farlo e devo dire che sono stato fortunato di incontrare dei talenti che mi hanno permesso di fare questo con la loro arte in primis Achille Lauro ovviamente che mi ha permesso di lavorare con lui alle sue performance sanremesi a tutto quello che abbiamo fatto poi insieme come direzione creativa ma anche penso a Giovanotti che per me è stato un grande maestro e a cui devo sempre dire grazie perché è stato il primo a credere in me e in Leandro senza che senza forse che neanche noi avessimo idea di cosa fare ma lui aveva visto in noi qualcosa e poi ancora oggi fortunatamente lavoriamo con lui e per me Lorenzo è veramente un mito senza tempo e senza limiti perché poi lui è veramente senza limiti di tempo perché ancora oggi sembra un ventenne il ventenne è qui la festa ecco e quindi sì poi sono stato fortunato che mi hanno permesso di fare delle cose belle e spero che altre tante ne vengano ancora ma prima di arrivare lì com'è stato il tuo rapporto col mondo della moda come ma io ho un rapporto un po' controverso in realtà col mondo della moda perché non sono un modaiolo non sono una fashion victim forse lo sono stato da ragazzino perché comunque mi è sempre piaciuto questo mondo però non sono uno che segue le tendenze ecco io quando sono uscito da scuola volevo iniziare subito a lavorare e ho fatto molta fatica a farlo perché ero troppo strano per lavorare nella moda ero troppo tachi ero troppo sopra le righe ero troppo personaggio forse e non avevo sicuramente neanche il gusto che andava incontro a invece al gusto dell'editoria milanese no l'editoria milanese è sempre stata molto molto borghese molto molto chic ha sempre avuto questo sogno della borghesia che non ho mai avuto io non ho mai sognato di essere un borghese non ho mai sognato di essere chic nobile ricco io ho sempre sognato di essere una rock star quindi fondamentalmente il mio gusto andava sempre in un'altra direzione e quando mi sono proposto per fare l'assistente agli stylist che facevano per di più editoria perché all'epoca l'editoria era molto forte non ho mai avuto successo nessuno mi voleva e devo dire che è stata per me una grande croce perché mi sentivo veramente frustrato di non poter lavorare ma dall'altra parte è stata una grande benedizione perché in realtà ho sempre voluto lavorare nel mondo dell'intrattenimento legato alla moda ma all'epoca non c'era come oggi questa cultura dello styling musicale erano in pochissimi che lavoravano con gli artisti e in maniera molto saltuaria l'unica che lavorava in un ambiente musicale era Susanna Usoni che ancora oggi è una grandissima stylist che ho avuto poi l'onore di chiamare mentore perché poi ho avuto la fortuna di andare a lavorare ad MTV dove lei era la nostra responsabile ed MTV per me era proprio una chimera un sogno perché MTV era non so come dire oggi secondo me i ragazzi non hanno veramente idea di cosa MTV ha significato per noi della nostra generazione perché MTV era veramente aspirazionale era una televisione giovane fatta da giovani super cool con dei personaggi che la la rappresentavano appunto i VJ che non erano i classici belloni erano quelli che tu volevi come amici cioè tu volevi essere amico di Camila Raznovici volevi essere amico di Cattela volevi essere amico della Victoria Cabello perché erano i fighi erano quelli che andavano alle feste belle erano quelli che parlavano le lingue erano quelli che erano nei giri giusti certo e essere un VJ era veramente il sogno forse di tutti i ragazzini e andare a lavorare ad MTV nel reparto styling per me è stato veramente una figata incredibile e soprattutto molto molto formativo perché MTV era veramente un'isola felice in quegli anni là e io sono arrivato ad MTV nel 2007 se non sbaglio e ho vissuto gli ultimi anni della MTV come ce la ricordiamo noi e vedere lavorare Susanna coordinarla a un team grande perché poi non eravamo in tanti perché poi MTV aveva una piattaforma di anche altri canali che erano Nickelodeon come di Central appunto vederla coordinare così tante cose è stato veramente molto molto formativo poi con Susanna ho fatto anche altre cose abbiamo lavorato alla prima edizione di X Factor per esempio su Rai 2 e l'ho fatto da assistente per tanti anni e poi ho cominciato a lavorare da solo però Susanna per me è un mito assoluto anche perché a Susanna secondo me va riconosciuto il grande merito di aver inventato lo stile dei giovani in televisione cioè prima di MTV quando si voleva rappresentare i giovani in tv c'era una visione giovanilistica dei giovani quindi si mettevano non so i jeans il cappellino al contrario un po' giovanotti for president degli anni 80 che però non era poi quello il modo in cui negli anni 90 ci si vestiva o comunque anche alla fine dei 90 non era più la cosa cool da indossare ma diciamo gli adulti che facevano la televisione generalista identificavano i giovani così invece poi quando è arrivata MTV si è visto come si volevano vestire i giovani dell'epoca Susanna faceva un lavoro quasi appunto editoriale guardava ID guardava The Face c'erano l'editoria inglese che faceva da guida in questa cosa e quindi improvvisamente abbiamo visto dei giovani vestiti da giovani in televisione quindi appunto ripeto Camila Vittoria Cabello Maccarini la Surina tutto quel quel mondo là era un mondo figo da vedere perché era dicevi cazzo anche io voglio vestirmi così e quindi poi andare a lavorare lì è stato per me veramente l'inizio di tutto e MTV è ancora un posto per me veramente che conservano il cuore beh ci credo cavoli per tutto quello che hai appena detto che hai rappresentato tornando un attimino al discorso dei ruoli e dell'importanza che per noi sono stati i BJ di MTV come appena detto però è inevitabile le supermodel negli anni 90 hanno determinato hanno rappresentato molto e sono anche stati un primo simbolo forse di emancipazione femminile è una lettura che possiamo dare noi possiamo parlarne però avevano una personalità anche solo visiva di attitudine molto forte questo 30 anni fa però se tu è uscita la serie dei supermodel Donatella Versace le ha rimesse in pasterelle siamo impazziti tutti il mondo è cambiato tanto e per fortuna in 30 anni però loro continuano a rappresentare comunque quella quella roba lì del mito del wow come Cindy come Claudia perché guarda non lo so nel senso io non sono stato mai attratto dal mondo delle modelle dei modelli ti dico la verità perché non penso che essere belli sia un merito ecco però detto questo va riconosciuto soprattutto a quella generazione di modelli che comunque non erano solo belli c'era talento che comunque stare davanti alla telecamera è un talento e soprattutto era incredibile e bellissimo tutto l'immaginario come hai detto tu che hanno costruito intorno a quelle a quel ristrettissimo gruppo di donne che a un certo punto erano veramente delle rockstar e quella cosa là era secondo me incarnato un glamour che non esiste più che è inutile ricercare oggi e allo stesso tempo erano anche un po' lo spirito dei tempi cioè erano un po' ancora la coda degli yuppies degli anni 80 dove c'erano dove dovevi essere bellissimo fisicato potente ricco empowered quindi era proprio l'incarnazione del successo americano di quella roba là che dovevi essere eri arrivato il super sì il sogno il sogno del successo però allo stesso tempo mi fa un po' sorridere poi oggi quando si tenta di voler ricreare un po' quella cosa lì di parlare ancora oggi di supermodelle ci sono ancora oggi le supermodelle perché se pensi a la stupenda Vittoria Ceretti a Gigi Hadid bella però non c'è più quel glamour lì cioè nel senso è proprio cambiato il mondo da una parte in bene da una parte in male poi sai le cose belle finiscono ed è bello così non penso siano momenti che torneranno quelli anche perché oggi la moda secondo me non fa sognare più nessuno la moda oggi ha perso quella componente di sogno che forse dovrebbe cercare di riconquistare e un po' l'abbiamo riconquistata quando secondo me Alessandro Michele ha fatto quel lavoro meraviglioso da Gucci e ha creato un immaginario veramente sognante a cui a meno per me parlo per me mi ha fatto mi ha riacceso una fiamma dove veramente volevo appartenere a quel mondo lì mi veniva voglia di andare in negozio e dire anch'io voglio vestirmi così anch'io voglio questa roba di cristalli voglio appartenere a quell'immaginario di Alessandro per me Alessandro è un mito totale e la sua moda secondo me ha riacceso una grande speranza nel sistema di dire c'è ancora modo di sognare facendo questo questo mestiere e sono sicuro che ci darà ancora tante emozioni col suo nuovo lavoro da Valentino ma non può esistere secondo me queste queste figure così da supereroi come sono state le supermodelle se non c'è un mondo di fantasia in cui interagire cioè è come un po' l'universo Marvel no? non può esistere Capitan America se non c'è il contenitore e quel contenitore può rinascere e quindi forse possono rinascere anche loro ma è da capire anche perché oggi cosa significa essere una supermodella cioè nel senso come come puoi ispirarti anche a essere come una di queste bellissime ragazze di oggi quando in realtà il mondo sta andando in una direzione opposta quella della body positivity quella del dire che tutti i corpi sono ok a modo loro e quell'ideale lì oggi è utopico cioè non dico che è sbagliato perché per carità è bellissimo essere belli come appunto Vittoria Ceretti o Gigi Hadid però non è l'unico modo di essere belli e fortunatamente oggi lo sappiamo forse 30 anni fa no cavolo se non lo sapevamo esatto e pensi che questo discorso la moda l'abbia fatto davvero suo o manca ancora un pezzo no no la moda non lo farà mai suo secondo me perché la body positivity secondo me viene da da noi normali ecco che abbiamo a un certo punto detto oh però cavolo anch'io non è che mi butto via ecco anch'io voglio essere accettato anch'io voglio sentirmi figo anche se non ho il six pack anche se la mia amica porta la 46 e chi se ne frega siamo belli anche noi la moda questa cosa non la capirà mai io lavoro con con tanti corpi normali e per normale intendo dalla 36 a veramente la 46 nel mondo femminile ho degli uomini che portano come me la 54 quindi mi relaziono con la moda chiedendo spesso delle taglie non campionario ed è dura ancora oggi non è proprio non sono proprio felicissimi di vestire tutti i corpi ecco che è un peccato perché è anche un secondo me una una cicità che si ha nei confronti di una clientela invece importante perché la moda ragiona per estremi ti fanno vedere che vestono in sfilata la supermodel che ha la 36 quando va bene se non la 34 poi però ti dicono eh ma io sono body conscious c'è anche la modella che ha appunto la 48 e ti vesto magari la celebrity oversize alla lizzo per farti vedere che poi sono aperto ma in realtà c'è un mondo in mezzo cioè nel senso c'è anche un mondo fatto di corpi che sta nel mezzo di questa cosa che vanno vestiti che vanno accompagnati che vanno anche raccontati e non si può pensare che un abito pensato su una taglia 36 può essere anche immaginato su un'altra taglia cioè è proprio un altro concetto e non so è molto difficile questo è un discorso anche doloroso a tratti perché io poi parlo per me il paradigma maschile di bellezza a differenza di quello femminile se tu ci pensi nella storia del mondo non è mai cambiato cioè le statue greche sono così e l'ideale è rimasto quello non è mai cambiato nella storia dell'umanità cioè a un certo punto l'uomo grasso non è mai stato bello non so come dire mentre la donna abbondante a un certo punto è stata anche simbolo di fertilità di salute cioè il corpo della donna ha subito tantissime trasformazioni nel livello di canone di bellezza poi possiamo aprire l'infinito capitolo di quanto quella cosa là sia stata strumentalizzata dagli uomini sia dagli uomini appunto per sessualizzata a tratti vuoi anche invece dagli uomini che hanno dovuto immaginare il corpo della donna quindi anche gli stilisti i grandi sarti che hanno appunto inventato i corsetti che sono delle macchine veramente di tortura i tacchi le crinoline le spalle grandi le parrucche quindi il corpo della donna è sempre stato oggetto di pensieri altrui il corpo dell'uomo il paradigma è sempre stato quello e ancora oggi è quello ma anche giustamente perché forse è anche un canone di salute quella cosa lì però allo stesso tempo un corpo per esempio come il mio che non è un corpo come quello della statua greca io ho la mia pancia ho la mia schiena storta è difficile da vestire io stesso faccio fatica a vestirmi quindi dico cavolo ma siamo ancora così cioè ancora oggi la moda non parla a tutti e chi dice che non è così secondo me mente è una profonda riflessione che la moda deve fare questo questa cioè nel senso essere inclusiva o fare coming out e dire non lo sarò mai perché io ho detto quello che per me è il canone del gusto è un po' non lo so è un gatto che si morde la coda si grazie che bello non lo so io quando faccio delle domande do delle risposte poi me ne rifaccio io ti ho fatto questa domanda perché speravo in questa riflessione in realtà perché nel senso non è semplice parlarne di questi aspetti e magari non tutti hanno gli strumenti per per capire no anche in più è una cosa che crea tanto dolore comunque io lo vedo anche nei ragazzi con cui io lavoro no soprattutto in quelli molto giovani ma anche in quelli più adulti non è facile accettarsi ma io lo dico per me in primis per me non è mai stato io ho sempre avuto un occhio molto estetico mi piacciono le cose belle e quando tu ti metti hai il piacere di vestirti e ti guardi allo specchio dici cazzo però io non voglio essere così poi è bello a un certo punto dire sti cazzi io sono così e vabbè mi devo piacere cerchi di piacerti cerchi di farti piacere agli altri però cavolo è faticoso è molto faticoso e questa roba qua mi spiace quando quando ferisce chi non ha come dicevi tu gli strumenti per dire vabbè è andata così mi piace uguale fanculo tutti stasera devo uscire a limonare so come dire non tutti hanno quella roba là e spesso guardarsi allo specchio è una lama che proprio ti trafigge e ti senti sconfitto e cerco sempre di provare a trasmetterlo anche ai ragazzi con cui lavoro quando si guardano allo specchio che magari dicono no questo mi sta male no questo non me lo posso mettere mi piacerebbe mettermi questo vestito ma questo vestito poi mi fa vedere la ciccia ma uomini e donne indistintamente non è una roba né di sesso né di età perché io poi ti dico ho vestito personaggi di tutte le età e anche le persone più adulte anche le persone che hanno la mia età anche quelli più grandi ti dicono no cavolo che sogno mettermi quell'abito lì ma che te ne frega mettetelo ma mettetelo però capisco non è facile e poi purtroppo i social devo dire che non aiutano questa cosa qua perché c'è tanta cattiveria e so che è un discorso veramente banale farlo però però è reale sì poi tu ti puoi anche accettare a un certo punto però cavolo se posti poi la foto ci sarà sempre 9000 messaggi che ti dicono ma come ti viene in mente vestirti così metterti sta gonna ma come ti viene in mente metterti quella giacca o quella camicia trasparente è tutto così tutto un lavoro che hai fatto pre viene annullato in un attimo non siamo clementi proprio no per niente a un certo punto tutti vogliono che Nick Cerioni li vesta no non è così non è così però no ho lavorato con tante persone poi tutti tutti no ovviamente sto esagerando però c'è stato un momento soprattutto dopo Sanremo vabbè io personalmente ti ho conosciuto a X-Fastor un po' di anni fa io conoscevo il lavoro che stavi facendo con Giovanotti e poi c'è stato Achille Lauro che secondo me ha determinato un po' il momento dove ti sei guardato allo specchio magari ti sei detto bella lì Nick bravo no oddio guarda io ho un'origine contadina e a me quella roba lì è rimasta io sono marchigiano doc e noi siamo contadini e io mi ricordo solo la grande fatica del lavoro non sto lì poi a dire ah va che bel campo che ho arato ti ricordi solo che dici sono sopravvissuto a questa roba ce l'abbiamo fatta quindi andiamo avanti no devo dire che il lavoro con Lauro è stato per me bellissimo e molto faticoso perché quel progetto creativo che abbiamo pensato insieme e che Lauro mi ha permesso di appunto di esprimere con così tanta libertà a cui io tra l'altro sarò sempre grato a Lauro per questo è stato un lavoro molto faticoso perché noi abbiamo dovuto dribblare tantissimi ostacoli finché Lauro non è salito sul palco di Sanremo io non immaginavo che avremmo potuto farlo però devo dire che poi è successo e questa cosa ci ha dato tanta credibilità e ha fatto capire soprattutto agli altri che la nostra visione di quel palco la nostra visione del pop o comunque della musica che si poteva fare anche vedere non solo ascoltare aveva una forza una forza che forse qualcuno fino a quel momento non poteva immaginare e si è aperta ovviamente una porta una porta su cui poi sono entrati tutti e questa cosa secondo me è bellissima che poi nei Sanremo successivi il modo in cui i cantanti si sono presentati e si presentano oggi è diverso rispetto a prima e questa cosa secondo me è molto figa perché vuol dire che abbiamo fatto breccia in un modo di lavorare abbiamo scritto uno standard e questa cosa mi piace è bella ce la possiamo questa è una medaglia che ci possiamo mettere beh ma dici poco cavoli anche perché però è figo a me poi non sono di quelli che dicono ah però questa roba l'abbiamo fatta prima noi allora gli altri non devono invece secondo me è figo che poi dicono è oggettivo Nick cioè nel senso che te lo dico io non voglio che lo dica tu cioè quando adesso stiamo parlando va bene lo specifico di Sanremo ma è anche altro quello che poi hai fatto però i lucchi iconici di Sanremo ci ricordiamo la bertè col pancione finto adoro Anna Oxa con il tanga fuori eravamo 99 allora 86 e 99 eccola lì poi un fatti bravo secondo me Geisha lo vogliamo 84 ce li hai tutte le date ecco è una memoria estrema e poi ragazzi c'è ce ne sono stati altri ovviamente però io per quanto mi riguarda sono sicurissima nel dire che il lavoro che hai fatto tu e con Lauro e con anche altri che hanno calcato quel palcoscenico Maneschi ad esempio è una cosa che si si ricorderà cioè nell'elenco delle cose basta che mi dici grazie no no a me fa piacere ma sai perché a me piace sempre pensare che le cose che facciamo non restino mai lì tanto per fare che portino qualcosa e sì io devo dire che il lavoro con Lauro secondo me resterà il lavoro con i Maneschi è stato per me molto bello perché anche lì abbiamo avuto la possibilità di lavorare su una tela bianca e questo è stato anche grazie al team dietro che all'epoca ci ci aprì le porte dicendo creiamo insieme e ci siamo potuti mettere veramente a inventare un mondo visivo secondo me molto bello poi vabbè i Maneschi sono stupendi bravi belli hanno le hanno tutte e quindi è stato bello quell'anno lì io ho lavorato con loro per un anno e devo dire che è stata una cosa molto interessante c'è stato qualcuno invece che hai dovuto convincere fidati fidati vabbè quasi tutti io faccio lo psicologo devi sapere perché da una parte noi che entriamo in una sfera così intima di una cosa che è come vestirsi cioè vestirsi comunque parla di te e ti da una parte ti copre e dall'altra parte ti espone quindi è un processo molto delicato quindi spesso noi ci rapportiamo veramente con tante fragilità però sì spesso devo veramente insistere tanto per fare qualcosa poi a volte va a volte non va ci sono delle cose riuscite meglio le cose riuscite peggio però a me piace lavorare con gli artisti perché per me l'abito deve vivere e vive solo se tu gli dai vita e quella vita che tu dai a quell'abito gliela puoi dare solamente tu perché se lo indossasse qualcun altro non avrebbe lo stesso la stessa energia e per me la combo che funziona è quando riesci a creare un incastro giusto allora succede una magia e questo è bello cioè il bustino con le tette a punta di Madonna non lo poteva indossare Whitney Houston come non lo so il vestito di Cher con le piume in testa non lo poteva mettere Madonna ecco quindi ognuno mette del suo e quindi devi trovare quell'incastro lì magico siamo arrivati alla fine ma prima mi devi dire l'imprevisto dell'ultimo secondo più traumatico del tuo lavoro beh ce ne sarebbero migliaia figurati ma succede di tutto lì dietro cioè a Sanremo nello specifico perché poi tutto quello che può andare sotto va storto perché è talmente delirante però ne sono successe di tutti una volta ho tagliato un abito a metà 5 minuti prima di salire sul palco quando abbiamo fatto il Sanremo di super ospite di Achille Lauro per esempio avevamo questi meccanismi difficilissimi da azionare che avevano le sacche di sangue per piangere quindi fino all'ultimo non sapevamo se avessero funzionato quindi pulsanti pile attaccate sacche di sangue da tenere dietro è successo di tutto però ti dico è bello così cioè noi siamo veramente sempre a mille però comunque tutto quello che si può rompere si rompe tutto quello che si può incastrare si incastra poi altra cosa tutti stressati prima del palco dimagriscono quindi sti vestiti non stanno più su quindi ma come è possibile ti entrava no ho perso due chili non mi sta più sulla gonna non mi sta più la giacca un delirio continuo però dai è bello così è parte del gioco ci divertiamo dai ci divertiamo CSNCS ci sta non ci sta finiamo con il giochino ok sei pronto vai Raffaella Carrà meglio di Madonna adesso allora non si può fare questo paragone non posso farlo questo paragone cioè mi state toccando due è come dire Gesù Cristo o la Madonna non so non puoi rispondere no mi astengo ti astieni va bene ti propongono la direzione artistica o creativa insomma in base al tuo mestiere di Sanremo CSNCS ma CS totale firmo ora ma certo mollo tutto se Alessandro Michele mi chiede di lavorare esclusivamente per lui ma sì certo CS totale ma io per Alessandro Michele farei di tutto io lo amo per me è un genio io lo adoro ma poi è una persona a parte è una persona straordinaria ho avuto modo di lavorarci di conoscerlo un po' e per me Alessandro Michele è un genio ma totale io lo amo follemente amo il suo lavoro mi piace la sua cultura ha un team di persone straordinarie e alcune di queste persone nel suo team ho la fortuna di chiamarle veramente amici quindi per me Alessandro Michele è tutta la vita Pierpaolo Piccioli sopravvalutato no no Pierpaolo ha fatto un lavoro figlissimo no no Pierpaolo per me ha fatto un lavoro bellissimo in questi anni da Valentino beh ma poi soprattutto a me è sempre piaciuto moltissimo il suo approccio al mondo dell'alta moda perché l'alta moda se ci pensi è un po' fanè come concetto anche se ha una clientela molto vasta ancora oggi perché poi c'è tutta una serie di clienti che spendono queste cifre incredibili per noi inimmaginabili in abiti ma lui ha fatto secondo me ha veramente attualizzato il concetto di alta moda queste scelte cromatiche meravigliose questi volumi Pierpaolo è un maestro in questa cosa quindi per me ha fatto un lavoro incredibile gli anni 90 hanno rotto le palle no no gli anni 90 sono stupendi io li amo io li amo tanto gli anni 90 sono stati i nostri anni i dischi più importanti che mi hanno mi nutrono ancora oggi sono degli anni 90 ultimamente tra l'altro mi sto riascoltando tantissimo tante cose di Carmen Consoli degli anni 90 che io ero di cui ero fan sfegatato e ho in loop mediamente isterica che è uscito nel 98 se non sbaglio e per me guarda quella parte 95-2000 i dischi della mia vita sono tutti usciti in quel periodo lì sei mio fratello sì Carmen Consoli penso a Madonna con Ray of Light ma anche poi le cose prima le cose dopo soprattutto penso a tutto il rock che mi piaceva il placebo Marilyn Manson che mi piaceva tutta la scena del rock italiano i pitch i Prozac i subsonica i timoria cioè tutto quel mondo là i La Cruz che amavo tantissimo il Puerto Rico che dire la band di Paula Maugeri tutto quella wave l'italiana pazzesca Francesca Lago amavo no va bene cosa mi hai ricordato tantissime no no io gli anni 90 passavo le giornate in un negozio di dischi che c'era lì ad ascoltare dischi a comprare musica il pizzicato Five un periodo non era infissa quindi la prossima intervista la facciamo tutta sulla musica quando vuoi è vero che sei una rock star lo confermo mi vesto come un altro così ci provo ma no non ho nessun tipo di talento musicale tra l'altro ho provato a suonare tutti gli strumenti niente zero una capra grazie mille grazie a voi grazie davvero boys